Il Cresamer Festival prima di tutto è uno spettacolo, uno spettacolo bellissimo dove abbiamo un po' di tutto, abbiamo un corpo di ballo, cantanti, attori, un'orchestra dal vivo, abbiamo tutto e soprattutto è adatto alle famiglie, dai più piccoli che hanno tre anni fino ai più grandi che hanno oltre 60 anni. Ogni spettacolo che organizza Gela per me è un onore e soprattutto una scommessa perché in questo periodo organizzare spettacoli è difficile, però devo dire che sto avendo la partecipazione di tutti i gelesi, a partire dalla scuola di ballo, di Laura Villareale a finire, commercianti di Gela, è una cosa davvero bellissima che tutti si stanno unendo e secondo me l'unione fa la forza e in questo momento mi stanno appoggiando tutti quanti dall'amministrazione comunale ai commercianti di Gela e questo qua fa onore ai cittadini gelesi. E soprattutto vorrei dire a tutti quelli che ci stanno vedendo che è vietato mancare perché abbiamo di tutto, abbiamo degli acrobati, ballerini, cantanti, attori, c'è tutto. E' un'iniziativa, la forza la più grande iniziativa che stiamo facendo d'estate con l'aiuto di Andrea Infurna che ormai è diventato un personaggio famoso a livello nazionale, un spettacolo in piazza giorno 19 agosto 2016 alle ore 21.30 circa. Ci sarà questo grande evento che coinvolgerà talenti gelesi e Andrea Infurna. Grazie. Grazie.